Un giorno di dolore per me, credo per tutta la comunità di Borgar, per tutta la comunità politica di Torino e città metropolitana, per la scomparsa improvvisa di Vincenzo, un amico, una persona di valore e di valori, un grande amministratore che ha insegnato a generazioni di colleghi come amministrare la cosa pubblica rispettando le regole, avendo visione, progetti, ma anche una grande umanità, una grande capacità di tenere insieme al gruppo. Non ci credevo ieri sera, sono qui a portare il mio saluto alla sua compagna, alla sua famiglia, a stringersi intorno a loro e a non capacitarmi di una perdita drammatica per i suoi familiari e per tutti noi.